Un saluto a tutti da Snuggles e ben ritrovati in un nuovo episodio di Super Mario 3D World Allora ragazzi, è un mese che non registro un episodio di Super Mario Come avrete visto, ha dovuto finire la serie di Zelda, ha iniziato anche Pokémon E quindi adesso rimane da finire questo Super Mario e fare poi Bowser Fury Quindi un bel po' di roba Non sono molto hot con Mario Quindi vediamo un po' che cosa andremo a combinare Allora, allora, questo che fa? Spacca tutto Non gli si può fare nulla, ok Però secondo me in questi cosi qui c'è qualcosa Perché altrimenti non ci sarebbero, forse Vediamo un po' se si può in qualche modo Far cadere nel buco Oh, ok Pensavo ci desse qualcosa di più figo Vista l'immonda difficoltà nel buttarlo giù Invece un bel nulla Andiamo sopra allora Andiamo sopra Che succede a questi cosi? Succede che me ne casco di sotto Come un idiota Perfetto Ottimo, ottimo Vai, ricominciamo Allora Entriamo qui Stavolta Ce ne freghiamo di quattro monetine Saliamo Ok Pende così Ma non ci importa Oh, adesso si Ma però comunque sono abbastanza immuni Vabbè Direi di sgommare da quest'altra parte Dove non possiamo essere presi e salire sopra Allora, allora, allora Qui che c'è? Niente Possiamo entrare nel cubo Allora Qui vediamo invece che si può scendere qua C'è una marea Questi fantasmini lì sul timbrino Quindi Oh, 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 oh Dobbiamo Mi sa Oh Stavo per beccare il fantasmino Non li posso Posso Vediamo Non gli si fa nulla E qui Invece Ah, ci abbiamo saltato da qua sopra Quando arriva l'ultimo Ok Eh, ti pareva Ti pareva Di qua Vai avanti Di qua Vai avanti Di qua Ok Allora Vediamo Non so se ci può stare qualcosa là sotto Allora c'è qualcosa qui E infatti Infatti Seconda stellina Una ce la siamo anche già saltata Perfetto Perfetto Allora Ora ci tocca Ripassare Andiamo Andando alle spalle Ok Perfetto Senza problemi Let's go E abbiamo Oh Oh Dicchio No 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 Fermati Allora Qui Stellina Corriamo Rapidissime Di qua La siamo Scampata Adesso Sicuramente Eh che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Far cadere Questi cosi Qui nel baratro Può darsi Ah Qua c'è un Un fungo Inutilissimo Prende inutilissimo Ho fatto pure la diagonale Ma niente Dai Cadi Non cade Stanno lì Bloccati Diamo un piccolo Aiutino Uno Due E Perfetto Ok L'avevo capito Che Questi due Cosi Qui Centravano Qualcosa Due stelline Di tre Prese Allora Qui Facciamo Così No Non salta In questo Modo Qui Rifacciamolo 77 Secondi Ok E vai Preso 10k Che poi non ci dà il one up Quindi veramente Un po' tristino Un po' tristino Un po' tristino Ci prendiamo lo sticker Del fiore di fuoco E si va Let's go 101 stelle per noi Diamo un Bowser di pietra Da una parte E Invece Un simpaticissimo Molto poco simpatico Secondo me Quanto odio quelle reti Troppe morti Allora Zattera insidiose Ok Abbiamo il gatto Come sempre Quando Ci toccano Oh Aspettate Qui bisogna seguire La zattera Ok Quindi Direi che Va bene Così Qua magari Ci si deve arrampicare Così si deve arrampicare Qua Eh No Ma perché Non si è aggrappato Perché non si è aggrappato Cosa è andato storto Vabbò Riprendiamo il gatto Qui Ci arrampichiamo E non succede Un bel Nulla Invece Invece di qua Di qua Eh Pure Si può arrampicare Ma Ma perché Perché Splanazza Maledizione Non ci si può credere Non ci si può credere Cioè È veramente easy Io vado perdendo Come un polletto È giusto Perché so Per certo Che poi Qui su Ci saranno Le stelline Tutte le cose Se rimaniamo Sulla zattera Fermi Non becchiamo Praticamente Un cucco Un cucco Non becchiamo Quindi facendo invece Così Dov'è Dov'è la zattera Qui non mi fido più A lanciarmi Non mi fido Veramente più Quindi scendo Qui Con calma Facciamo così E ci prendiamo Anche una riserva E ci arrampichiamo Sopra Perfetto Uh 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 Fa veramente Brividi Ho schiuto Con la palla di fuoco Per un pelo Ok Devo dondolar Mio Per avere più Energia E volare Qui Invece Io aspetto Che ci sta La zattera Sotto Per sicurezza E Forse Dovevo fare La picchiata Vabbè La zattera Se ne sta Andando No 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 Presa Ok Però Dobbiamo Farsi La trasformazione Ma non importa Perché ce la Rifacciamo subito E adesso Non lo sapevo io Non lo sapevo io C'è un'altra Zattera Allora Andiamo un pochettino Il gatto Il gatto Il gatto Se no qui va a finire Si poteva fare Una super picchiata Ok Adesso si ferma Così arriviamo al cubino Cubino Senza gatto Niente arrampicata Triste, davvero molto triste Ok, vabbè Saliamo sulla bandierina e basta Com'è comuni Mario Da Mario comune Ok Vediamo un pochettino Il nuovo sticker Del gattino addormentato 30.110 punti E andiamo Subito con questo Bowser di pietra E' quello Big Boss Big Boss Citare Metal Gear Big Boss Abbiamo le stelle necessarie Per questo Bowser di pietra E' questo livello In salita, una pagoda Con pesci dorati Barre puntinate Ed eccoci Oh, ci siamo Allora Dobbiamo aprire le porte Rivello con questi comandi speciali Come saprete Non sono il maestro di questi comandi Bom, 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 bom Si può adesso però stunnare Cioè padroneggiandoli Vediamo un po' cosa ci da qui Un bel niente Vediamo di qua Oh, almeno, almeno Apriamo E qua E cosa ci sta qui? Perché si ci ha fatto venire qua? Andiamo Spostiamo Ah Però c'è tutto sto casino Per Un funghetto Vediamo almeno Una trasformazione Una cosa Saltiamo lì sopra Non avendo armi A nostra disposizione Ci prendiamo le monetine Oh, monete Impilate Oh, oh, oh Ce la con noi Ce la con noi E Premiamo Premiamo Poi la scala Ce la sviniamo Qua c'è un gong E quindi si può fare nulla Niente Allora apriamo qui Qui che ci sta Oh, attenzione Una stella Una stella E monetine Questi tizi Gli ho tirato praticamente Un calcio Non li sono saltati da sopra Timer Timer E qui? Oh L'ho praticamente sturato Via, via Bandierina E' proprio quello Che volevamo Schiacciamo Sto coso Qua Niente Ci prendiamo Allora La chiave Tirato un calcio Anche a questo Vediamo Sul tetto Altra chiave Oh Brividi Chiave anche di qua Figura C'è una Anche qui E saltiamo Manca una chiave Oh Attenzione Boomerang Boomerang Pichissimo E dove sarà mai Questa altra chiave Che ci manca Ah E' lì sotto E' lì sotto Ok Sì 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 Ma Non mi devo far schiacciare Perfetto Perfetto Taliamo in cima La montagna Qui E si va Let's go Eccolo il gong Ah il gong Vi fa scendere I nemici in quantità Però che super combo Che ho fatto Con Oh 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 Back Vai Gong Monete Eh peccato Lì non mi sono assaltato Una trasformazione invisibile Che mi piaceva suonare Anche quel gong Qui Che mi dà Niente Qui Si possono prendere Anche le monete Con questo Fighissimo Boomerang Che trick Gli ho fatto Che Gli ho tirato Il boomerang Volante Proprio Pure a questo Oh No 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 Ho fatto un po' Troppo lo sborrone Qua sicuro Ecco lo sapevo Lo sapevo E non mi ha dato Neanche un bel nulla E sono un mini Mario Andiamo di qua Ah Qua c'era un gong Mi sa che cosa Pazzesca Ci dava Maledizione Una sola stella Dai Peccato Peccato Perché quel gong Prometteva bene Ma Devo smetterla Di fare così Cioè Com'è che si faceva Ah figo Quel tuffo Non si può fare Vabbè Vabbè Veramente ho un mese Non ci rigioco Ho visto oggi Era il 4 aprile Oggi siamo al 31 maggio Scusate Scusate Era la fine di aprile Mentre adesso Siamo al 31 maggio Quindi un mese Allora La slot La slot Slot Andiamo a slottare Cerchiamo di beccarci Il massimo Delle app C'era il bianco Muaah Dopo un tavolo Di ciliegie Ok Almeno dai Fra l'abbiamo beccata Uhuhu Non è il gufo Uhuhu Però Vabbè Allora Da questa stupidaggine Possiamo Proseguire Con Questo boss Bossato Duello col principe bronco 6 Ah Ok Ehm Qui Non tanto Vediamo Se devo farlo Entrare In un Punicolo Ok Adesso Lo schiaccio Perfetto Calcio Ok Il colpo 2 Vai Ok Chiacciamolo Perfetto 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 Ok Vediamo un po' Che cosa ci Sblocca Ci sblocca Ci sblocca Un bel nulla Perché abbiamo Questo tubo Qui Che possiamo All'arcobaleno Dall'altra parte E il tubo E il tubo E il tubo E il tubo Dove va Ok Ok Allora Questa prima parte Ce la siamo fatta E quindi Per questo video È tutto Direi Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Se non vi è piaciuto Anche un non mi piace Un commento Fatemi sapere che cosa ne pensate Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video